ora certo che è difficile se vuoi vedere il panorama più maestoso devi sforzarti di scalare la montagna se vuoi ammirare le stelle più luminose devi essere pronto a rimanere nel buio più profondo se vuoi volare in caduta libera senza costrizioni solo con il paracadute prima ti devi buttare bisogna sempre trovare il coraggio la forza affrontare le proprie paure ma una volta superato te stesso non sarei più come prima immagina le emozioni che proverai come ti sentirai fiero forte orgoglioso felice devi solo iniziare un passo alla volta è vero è difficile ma tu puoi semplicemente credici e fallo ora grazie a tutti